Esattamente due anni fa Campotosto ha avuto il suo vero terremoto, più duro di quello che nel 2009 ha messo in ginocchio il capoluogo di regione, colpendo quasi 200 comuni in tutto Abruzzo. Ultimo borgo della provincia dell'Aquila arroccato sull'alta valle dell'Aterno, a Campotosto oggi si leccano ancora le ferite di un'emergenza senza precedenti, con la congiuntura maledetta tra sisma e maltempo. Proprio oggi, a memoria di quel giorno e come riconoscimento dell'aiuto fondamentale, il Comune ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria all'esercito italiano e ai suoi uomini impegnati nell'operazione Sabina. A ricevere l'onorificenza è stata la Ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, in quella che è stata la prima visita ufficiale del Governo nel piccolo borgo. L'esercito ha svolto un compito molto importante per noi, perché se avessimo dovuto abbattere con ditte private saremmo ancora all'inizio del lavoro. Io avevo firmato oltre 200 ordinanze di abbattimento, in un paese così piccolo, con meno di 600 abitanti, 200 ordinanze di abbattimento sono tantissime. E proprio grazie all'esercito siamo riusciti a farle in tempo utile. Sindaco, la ricostruzione è ancora molto lontana, che cosa manca? Per il resto qui manca un po' tutto, diciamo. Noi siamo all'incirca a metà della rimozione delle macerie, che ovviamente abbiamo dovuto sospendere. Non è possibile lavorare in queste condizioni, perché col ghiaccio e con la neve io non me la sento di mandare le persone a lavorare sopra un cumulo di macerie, assolutamente. Pertanto la riprenderemo a primavera quando le condizioni medie ce lo permetteranno. Poi non abbiamo ancora, non sono state ultimate le SAI e speriamo che anche queste vengano a primavera. I loro lavori sono iniziati, stiamo andando avanti con la produzione civile bene, speriamo appunto di arrivare in tempo utile. Per il resto diciamo che a questo punto noi abbiamo grosse difficoltà per appaltare le opere pubbliche. Abbiamo la necessità che non abbiamo risposte dalla centrale unica di commettenza e quindi siamo bloccati per la burocrazia, per questo punto di vista qui. Il governo deve continuare a impegnarsi, deve essere costante nella ricostruzione, ha detto la ministra. Abbiamo un paese molto fragile e laddove il paese è fragile lo è anche la sua popolazione. C'è bisogno dunque di resilienza, di capacità di resistere all'emergenza e di rimettersi in piedi. Polemiche tuttavia al termine della cerimonia con il portavoce della ministra che ha impedito ai giornalisti di poter intervistare Elisabetta Trenta. Niente punto stampa, niente domande che i giornalisti avrebbero dovuto concordare parola per parola.